Dopo una prima fase essenzialmente di rodaggio ci si sta avviando verso un trend positivo nella proposizione dei progetti per intercettare i fondi della riforestazione messi a disposizione dal Ministero attraverso le funzioni regionali. È abbastanza bene, dopo la fase iniziale di rodaggio che sicuramente durerà ancora perché è necessario che gli utenti si abitano l'idea e che i tecnici approfondiscano i bandi, quando parlo di tecnici non approfondire i bandi parlo dei tecnici privati e degli utenti per capire che cosa possono sviluppare e quindi credo che ci sarà come un settembre una ripresa sostanziale o un trend che aumenterà, sarà maggiormente positivo. Grazie